Le temperature insolitamente alte che si sono registrate a Terra Nova di Pollino in questi ultimi giorni hanno provocato lo scioglimento della neve. Gli amanti dello sport invernale quindi hanno dovuto raggiungere il lago Duglia a quota 1.400 metri per trovarla e poter mettere le ciaspole ai piedi. Partiremo da lago Duglia da quasi 1.400 metri per arrivare a Pietracastello a 1.700 metri dove incontreremo i primi pini loricati. Un meraviglioso viaggio nel bosco, un bosco caratterizzato dalla presenza di faggio e abete bianco per poi uscire fuori dal bosco e arrivare sulla Rue Ping, la vecchia teleferica tedesca che veniva utilizzata un tempo per trasportare i tronchi di pino loricato giù a valle. Le 19 persone, tutte pugliesi inebriate dalla bellezza del posto e vogliose di raggiungere i pini loricati, dopo alcune raccomandazioni della guida, si sono incamminate passo dopo passo alla scoperta delle bellezze del territorio. In volta è sempre una bellissima emozione stare qui insieme a tante persone che amano questo tipo di avventura. La fuga dalla realtà, la fuga dalla città rigenera. Uno sport escursionistico leggero, quello delle ciaspole, che viene sempre più spesso preso in considerazione, anche perché è un'attività che possono praticare tutti. La ciaspola si fa andare sulla neve senza sprofondare. È un dispositivo di sicurezza, quindi ha tutti gli effetti. È necessario anche portare dietro i bastoncini? Certamente, è proprio il bastoncino che, soprattutto nelle condizioni di dislivello, quindi di salita e discesa, ci aiuta a mantenere la sicurezza durante questa progressione. Sono saliti lungo un sentiero nel bosco, con calma, senza affrettarsi, gustando la natura selvaggia che era intorno a loro, lontana dai caroselli affollati della neve.